Avevamo iniziato con Napoli, adesso abbiamo proseguito questo percorso con questi COA che rappresentano la maggior parte della classe professionale non soltanto della città metropolitana di Napoli ma anche di comuni limitrofi. Il servizio di rilascio online della certificazione anagrafica e di Stato civile del Comune di Napoli viene stesa anche ai consigli degli ordini degli avvocati di Napoli Nord, Torre Annunziate e Santa Maria Capuavetere, che oggi a Palazzo San Giacomo hanno firmato un protocollo che consentirà agli avvocati dotati di identità digitale Speed di usufruire del servizio per una più celere difesa in giudizio dei propri clienti. Questa per noi oggi rappresenta un'occasione davvero molto importante per portare i frutti dell'azione amministrativa di questa amministrazione anche al di fuori della città. Ci fa molto piacere che anche cittadini e quindi avvocati di altri comuni possano usufruire di questa tecnologia che è stata sviluppata dal Comune di Napoli e che noi mettiamo a disposizione a titolo completamente gratuito. Napoli all'avanguardia sul piano della digitalizzazione, dematerializzazione, informatizzazione, segno che la pubblica amministrazione quando vuole anche con tanti vincoli normativi e con pochissime risorse finanziarie riesce a raggiungere obiettivi importanti nell'interesse delle nostre comunità.